salve a tutte e tutti qui il vostro sangue cian bene contro la discriminazione anche il vostro sangue cian mangerà una banana il no facciamocela ne mangio una perché altrimenti erano cinque poi non ho capito perché una una banana e non una mela vabbè poi non hanno capito perché il frutto proibito sarebbe stato una mela vabbè pensa c'era un limone grazie finita un altro e quattro per altri quattro video antidiscriminazione uno dei quali sarà anche più largo ci metterò più tempo a mangiarla vabbè comunque questo è stato il mio contributo antidiscriminatorio ed invito tutti gli iscritti al mio canale dei miei amici a fare un video mangiando una banana non so non so se dovrebbe essere un video con una banana o mangiare una banana beh io ho mangiato una e adesso adesso sto con quattro addirittura in un casco questo è stato il mio contributo discriminatorio spero che seguiate l'esempio ne facciate anche voi degli altri arrivederci ciao raccomando e no alla discriminazione